Allora due cose voglio dire Prima di andare via La prima, quella scritta che c'è vicino al titolo del mio spettacolo Gesù di Du Di Du è il confidenziale di un comico francese Che si chiama Dudinè Molto controverso questo ragazzo di colore Caverunense il suo nome intero è Dudinè Balambala Perché ha fatto delle battute anni fa Ha fatto una battuta sugli israeliani Dicendo Ma non è che le vittime hanno imparato molto bene dai carnefici È stato mandato via dalla televisione francese ovviamente Non ha più lavorato in televisione Non ha più lavorato al cinema Lui ha avuto una parte anche molto importante nei film di Asterix Quindi insomma era un attore Un comico molto conosciuto Non ha più lavorato per questa battuta Però a un certo momento ho cominciato a fare Tanti spettacoli dal vivo Dicendo tutte le verità scomode che nessuno vuole dire E più o meno una volta alla settimana lo arrestano Più o meno una volta alla settimana viene emesso Un editto dalla liberissima Francia Dove sono tutti Charlie Dove dicono che lui non si può esibire dal vivo Perché ha fatto anche un'altra cosa Che non si può assolutamente fare Una sera parlando durante uno spettacolo Ha detto Sapete quanto ce lo stiano mettendo nel culo In Francia? Tanto così E ha detto Forse è il momento che noi lo mettiamo in culo a loro Ma tanto così E si è inventato questo gesto Che ha ribattezzato Quenelle Quenelle Gli hanno detto che è un saluto nazista al contrario E l'hanno accusato di antisemitismo Così Giusto per dirne una Allora lui che è un simpaticone Ma viene preso molto sul serio Ha detto No ma io non sono antisemita Sono antisionista E giù benzina sul fuoco Siccome io ci ho parlato E mi sembra una persona veramente normale Mi sembra un comico che fa il suo mestiere Vi consiglio di andare a cercare alcuni suoi sketch Ci sono su Youtube Sono veramente molto belli Ce n'è uno dove lui fa la riunione pre-attentato dell'11 settembre Dove fa questo organizzatore Che parla agli 11 attentatori Ma non gli dice che è un attentato mortale Che è un attentato suicida E dice Sì no dovete fare un volo dimostrativo in mezzo alle torri Potreste trovare una fotocopiatrice in mezzo Ma non spaventatevi È tutto normale Ed è veramente Cioè su una tragedia così immane È una delle cose più divertenti che io abbia mai visto Quindi come vedete non è propriamente antisemita Anzi direi Per cui Insomma andate a cercare questi suoi sketch Che sono molto belli Ma sono molto irriverenti E soprattutto sono molto scomodi Quindi il giorno dopo L'attentato di Parigi La strage di Parigi Lui ha scritto un pezzo sul suo blog Che aveva un titolo estremamente provocatorio Che era Je suis Charlie Coulibaly Cioè ha detto Sono sia Charlie Che l'attentatore di Charlie E poi spiegava nel pezzo Che in realtà forse Forse analizzando bene bene Sono tutti vittime della stessa follia Non è così sbagliato È un po' pesante forse da dire il giorno dopo Ma non è così sbagliato Bene l'hanno arrestato Per apologia del terrorismo Quindi io credo che questa scritta Je suis dit du Liberté d'espressione Sia la cosa che tutti quelli che fanno il nostro mestiere Devono difendere in tutti i modi Per cui lo spettacolo mio di questa sera In qualche modo è legato a Dutinè Grazie Grazie